La Giunta Comunale di Vittoria ha approvato un protocollo d'intesa tra le comune e l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose. Il protocollo ha l'obiettivo di favorire l'acquisizione di prodotti e servizi a condizioni agevolate a favore appunto di famiglie con almeno tre figli, mediante la sottoscrizione di un'apposita lettera di intenti da parte dei singoli esercenti. Con l'approvazione del protocollo d'intesa, spiegato il sindaco Moscato, veniamo concretamente in conto all'esigente delle famiglie numerose che si trovano in difficoltà. L'Associazione Nazionale si impegnerà quindi a individuare gli esercenti che vogliono aderire all'iniziativa, mentre il comune promuoverà attraverso i propri canali l'iniziativa realizzando in orto una vetrofonia agli esercenti che prenderanno parte al progetto. Si tratta di aver il primo cittadino di un gesto significativo per sostenere i nuclei familiari in difficoltà e per dare anche un segnale concreto di vicinanza e per questa ragione abbiamo dato immediatamente il riscontro alla proposta di protocollo avanzata dalla stessa associazione.